Noi siamo orgogliosi come Consiglio regionale di poter patrocinare questo tipo di iniziativa promosso dal Comune di Roccaraso, dall'Associazione Roccaraso Futura e dalla provincia dell'Aquila. Quindi il Consiglio regionale non è solo parte con il proprio logo istituzionale, ma sarà partecipato di questa tre giorni della Roccaraso in blu. Come sapete il blu è il colore dell'autismo e vogliamo rendere la nostra società più inclusiva, più adatta a tutte le persone, quindi attraverso l'arte, la cultura, il teatro, laboratori didattici, esperienze, sensi oreali, si vuole in qualche modo coscientizzare anche le persone sul valore dell'inclusività.